Musica Salute ragazzi, eccoci trovate qui su Smash Quest'oggi siamo qui con Overgrowth E' tornata finalmente in questa serie Visto che è da un po' che non la trattavo Sono state aggiunte nuove mappe Quindi eccomi qui con questa nuova serie Cioè nuova, oddio L'ho ripresa Eh vai, spingi l'altro giù che ti spingo giù io Stronzo Ah cacchio non mi ricordo che di ramba Vai giù, vai giù Cazzo Ritirarsi, ritirarsi Uh ora mi diverto Voglio te Stronzo, voglio te Sì proprio te Vai Stronzo, vai giù Adesso devo fare una guerra Mamma mia Ah siamo rimasti io e lui Mi sa No, che cazzo Madonna, non si è ricaricato il doppio salto Sti bug di merda Ah Stronzo Boom Si prende tipo 27.000 di danno No Io non mi ricordo che fosse così una volta Anzi non era così Vai 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 Ormai sto qua Ormai sto qua Porca troia Ormai sto qua E' guerra tra me e lui Madonna Suino Vabbiamo torno Mi serve un oggetto Va 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 che bastardo Ti appendo al muro Ti smonto la casa Ti smonto il pene E poi te lo rimonto al contrario Dai dai Questa volta quella è buona Questa volta quella è buona Me lo sento C'è una guerra ormai costante Tra me e questo qui Vabbè adesso giro Hai vinto Dove sei? Guardalo 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 quel bastardo Madonna ragazzi Maggiordomo Maggiordomo bastardo Non mi hai preparato il panino Non mi hai preparato il panino Oh Il panino ti avevo chiesto Vai 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 a preparare sto cazzo di panino Dai Dai Dove sei? La cucina è dall'altra parte Amico No Vai vai giù No Cazzo Adesso c'è Il Il bambino qua Oh il maggior domo e il bambino Si alleano Attenzione Cazzo Questo qua mi ha preso proprio la spruzione Oh Oh La morte è proprio negli occhi Ho visto L'ho vista Adesso c'è il tizio che mi odia La guerra Più totale Il maggior domo che impara a usare gli archi Era abituato a lanciare le forchette Adesso si allena con gli archi Il maggior domo va 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 E' fiero proprio Guardalo 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 Guarda va va Adesso arriva quello da dietro E lo spinge E va a preparare i panini Guarda Ecco Non è morto però Ci siamo andati vicini Oh cazzo Cioè il bambino Il bambino che cerca di tirarmi giù Cazzo il rischio Il rischio La morte negli occhi Proprio Devo ricercarmi il salto Muoviti Cazzo Ok hanno nerfato i salti Mi sa perché io mi ricordo che saltavo Molto più spesso Oppure dipende Non so da qualcos'altro Perché Vai vai bambino A casa Il maggior domo La sfida finale contro il maggior domo Il maggior domo è morto Il maggior domo è morto Mi sa No è morto il maggior domo L'assassino è il maggior domo Sempre proprio il maggior domo Quindi Poco importa Dov'è il tizio Il bambino là Che cazzo è La prendo molto sneaky sneaky Se lo trovo Dai vieni fuori Ah guardalo lì Guardalo lì proprio Arriva 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 Cos'è in mano Che vuole attaccarmi Una spada in legno Attenzione La sfida E io ho più danno di lui Ovviamente adesso le prenderò Oh Cerchiamo di sfruttare le coperture Cazzo E sono morto Non adesso No Cazzo Ok Non so se c'è ancora il maggior domo Mi sa di no Mi sa che il maggior domo È proprio andato a fare i panini Dato aspetta che è un po' tardi Cazzo C'è se c'è il superman Chi è? No E il re Che cazzo è? Com'è che si chiama? C'è il croissant Oddio Attenzione al croissant Oddio come ho rischiato E si va E va giù Vai giù Ciao Ciao Boom E va a vincere Attenzione Ritorna il re di smash Per questo episodio era tutto Spero vi sia piaciuto Un po' Corto Però Spero vi sia piaciuto Ci vediamo un prossimo episodio di smash Oppure di Smash mobs Lo diremo Insomma Vi dico che ricomincerò entrambe le serie E poi successivamente Ditemi nei commenti se volete serie Magari di mappe avventura O preferite più serie su altri minigame diversi da smash e smash mobs E magari consigliatemene anche su qualche gioco se avete idea Cioè su qualche gioco intendo su qualche minigame Quindi per questa serie Per questa serie Per questo episodio Per questo ritorno Anzi A smash e tutto Ci vediamo al prossimo episodio Alla prossima Alla prossima